Iscriviti al nostro canale E' estremo! Buono! Mettete i piedi a bagno! Sono bello! Bello? Ma si può passare? Ma si può passare dal ponte di Santa Agatha? Anche dal ponte? Per andare verso Corso Sant'Egna? Buono! Ecco che sta arrivando! Sì! 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 Completamente allagato! Sì, io passi che l'acqua stava più o meno al borde, però la parte di sotto. Questa è via 20 Settembre. Questa è via 20 Settembre. Questa è via 20 Settembre.